21 febbraio 1903, nasce a Le Havre Raymond Quenot, scrittore, poeta, matematico e drammaturgo francese, autore del celebre romanzo Zazie dans le métro, divenuto poi un film grazie all'adattamento di Louis Mal nel 1960. Surrealista ai tempi di Breton, Quenot se ne distacca per creare una propria corrente letteraria, il movimento dell'Hulipo, affascinato dai numeri e dalla matematica, Quenot abbraccia con l'Hulipo una sua personale poetica dei numeri.